Mi chiamo Paola e sono alcolista. Ho cominciato a bere perché avevo paura. Quando mio padre usciva la sera per andarsi ad ubriacare, mi lasciava sola in casa. Avevo tanta paura che non riuscivo neppure a dormire. La signora Giuliana, una nostra vicina che ogni tanto me veniva a trovare, una sera me porta una tazza di latte, ci mette una cosa dentro e me fa «Questo te farà dormire, era cognac». E infatti ho dormito tutta la notte. Fu così che cominciai a bere. Da quella sera vinsi tutte le mie paure a base di cognac. Certo che cognac è terribile. Più avevo paura e più bevevo. Non assaggio alcol da tre mesi. Oggi, grazie all'aiuto dell'associazione, ho trovato il coraggio di gridare a tutti «Sì, ho paura, tanta paura!» Brava, 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 brava! Prego, prego, accomodatemi.